Ciao Paolo, partiamo dalle domande serie. Come mai l'idea di dirigere un film, tra l'altro scritto da te, prodotto, quindi un progetto tutto tuo, come mai? Ero nato per fare uno spettacolo teatrale su questa storia della prima guerra mondiale, poi a un certo punto sono successe un po' di circostanze, perché non facciamo un film di qua, perché non fai anche il reggio. E' stata una casualità, non è che sono partito con l'idea di dire dai vado, faccio, no, mi sono trovato e sono arrivato qua. Raccontaci un po' questa storia perché tu ti sostieni che appunto ti piace raccontare storie drammatiche però facendo ridere, come mai ambientarla nel 1917, visto che anche oggi insomma di drammi ne abbiamo? Sì, devo dire che tra l'altro secondo me ci sono molte cose simili, perché anche oggi sentiamo forse, c'è questo senso incombente di pericolo, di cose, è proprio per questo ho detto, dai quella volta c'era veramente la guerra e sono morte, è stata una cosa tragicissima per il nostro paese, per tutti i nostri nonni, eccetera. Però ci sono tante testimonianze, tanti diari, tante lettere, tanti libri, il mio nonno stesso, che raccontavano che comunque anche in un momento così drammatico e tragico gli italiani sapevano alzare la testa, fare una battuta, ridere, trovare il modo di essere amici, di avere fratellanza. E ho detto forse questo può essere una bella cosa da raccontare. Ti sei basato un po' sui racconti di tuo nonno, visto anche sul pressbook c'è la foto. Molta miseria, sì, mio nonno mi raccontava di queste cose, ma mi raccontava anche che si facevano gli scherzi, si facevano finta che arrivassero gli austriati, cioè erano ragazzi, vivevano la guerra, avevano ben presente che potevano morire da un momento all'altro, e però questa cosa qui c'era. Poi la generazione che c'era cent'anni fa forse era un po' diversa dalla nostra, forse era più semplice, aveva visto meno cose, per cui già il mio nonno mi raccontava per esempio che quando gli avevano fatto la divisa per lui era... Già lei non aveva le pezze al culo, per cui immaginati la divisa già, le ragazze insomma. Parlaci di questo fantastico cast, dove l'hai trovati questi ragazzi e soprattutto sembra che ci sia una armonia proprio tra di voi, cameratismo, ecco, userei questo termine. Diciamo che il cast curato da Stefano Rodà, devo dire, è stato proprio una scelta di prendere persone che venissero dal teatro, infatti il film è stato impostato proprio con una caratteristica teatrale, abbiamo fatto due settimane insieme, prima del primo Ciac e siamo stati tutti le cinque settimane di ripresa insieme, abbiamo fatto sette settimane, come una compagnia teatrale, abbiamo lavorato sui personaggi, abbiamo... Io non sono un reggito, non avevo mai fatto un reggito, io neanche a teatro, nei miei spettacoli, mi faccio la reggita io, penso a te. E quindi io nella mia ignorantezza ho fatto l'attore con loro, mi sono messo assieme a loro dicendo io questa cosa qui, la verrei così, io autore della sceneggiatura, mi sono messo nei panni dei loro personaggi e assieme a loro è venuto fuori questa cosa, devo dire è stata molto bella perché gli attori hanno veramente raccontato loro stessi in maniera molto teatrale, è un film che si potrebbe fare a teatro, cioè si potrebbe fare a rovescio, perché molte volte ci sono i film delle pisteatrali che diventano film, questo forse potrebbe essere... Hai un po' paura allora, ti faccio questa domanda, se non temi un po' il pubblico cinematografico, che forse è un po' diverso da quello teatrale? Guarda io ho scritto questa storia pensando di raccontare questa storia ai ragazzi, ti devo dire la verità e la mia idea è stata questa, con magari la speranza che qualcuno si incuriosisca, vada a vedere, a cercare su qualche sito, su Yahoo, grande guerra, vado su Yahoo e scrivo grande guerra, soldato semplice, caporetto, queste parole, vengono fuori migliaia di siti e così magari andare a vedere qualche film vecchio, magari andare a vedere la grande guerra, magari andare a vedere il film di Olmi, che è un film molto bello, drammatico, fatto da un maestro, cioè non è io, non mi voglio paragonare, però magari questo può essere il modo per avvicinare i ragazzi a un tema e andare lì, poi dopo uno va a vedere quello che gli fa. Come esperienza ti è piaciuta? La rifaresti? Perché tu continui comunque a fare teatro adesso. Io continuo a fare teatro, a ottobre debutto con uno spettacolo sul Garzone di Michelangelo, il Garzone Balbusiente, che infatti si intitola Perché non parli, mi piace molto il teatro, il teatro l'ho scoperto appunto pochi anni fa come esperienza teatrale, però mi piace quel cinema. Spero, se tutto va bene, di fare un altro film, c'ho un sacco di idee, spero di ritornare indietro con i soldi, per cui andate a vedere, è stato semplice, il 2 aprile andatelo a vedere, quella settimana lì, non quella dopo, perché la quella dopo può darsi che non ci siamo già più, speriamo che così almeno... Esatto, infatti ti volevo chiedere appunto di invitare la gente al cinema, è una piccola produzione, ma andiamo al cinema, ma soprattutto andiamo a vedere le piccole produzioni, premiamo e basta, queste americanate sono... Fast and Furious andiamo a vedere, ma la settimana dopo, oppure quando va per televisione. Perfetto, ti faccio un'ultima domanda sulle location bellissime, come le scelte, è vero che sono stati luoghi appunto dove veramente poi si è vissuta la guerra, hai detto anche che mi hanno un po' accolto, insomma la gente, ci racconti qualche aneddoto? Ma guarda, devo dire, abbiamo scelto di girare in Valtellina perché i posti sono molto belli, primo motivo, il secondo motivo è perché sono stati posti che sono stati scenari di battaglia, c'era proprio la linea del fronte sullo Stelvio, e il terzo motivo è perché la gente ci ha voluto bene, ci hanno voluto bene con i modi montanari, per cui non tanto però mangiare, bere il nebbiolo, il vino, zone da vino favolose, zone da bresaola, zone da abito, da formaggi, da pizzoccheri, e la gente ci ha, ci hanno fatto proprio compagnia, compagni di magnate, di bevute e di risate. Beh ma io dico sì, la prossima volta se mi porti faccio... Grazie mille! Grazie a voi! Grazie a voi!